Non lo sopporto quanto te. Anch'io avevo un lavoro, anch'io l'ho perso. E anche per me è stato un inferno. Avrò 500 euro al mese. Come faccio a pagare le bollette e tutte le spese? Questo fra nove mesi, cioè adesso. Sarebbe disposto ad accettare un incarico al di sotto di quello che ricopriva nella precedente azienda? Sì, penso di sì. Ha preso in considerazione la vendita dell'appartamento? Sì, ma la risposta è no. È no? E per quale ragione? Sarebbe come se quello che abbiamo fatto non fosse servito a niente. Allora, quanto alle cassiere, zoommi per controllare bene che scannerizzino tutti gli articoli. Visto che non sono stati molti a scegliere il prepensionamento, cercano di fare fuori il personale. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Io penso che per la mia salute mentale preferisco darci un taglio, passare ad altro. Vuol dire che sono un vigliacco? Non è la prima volta, signora, se mi è stata firmata. Gianni Dio, conferma? Sì, signore, conferma. Thierry, conferma?